Oggi ci troviamo a Nave e vi accompagna a vedere un interessante appartamento bilocale all'ultimo piano con ascensore. Andiamo! E anche per i meno sportivi, grazie all'ascensore, resterà solo il piacere dell'ultimo piano. Adesso entriamo in casa. Benvenuti in casa. Come potete notare entrando, troviamo una comoda zona giorno, pratica e dalla dimensione generosa da poter vivere anche in compagnia. Il disimpegno ci accompagna, dapprima nel bagno finestrato con doccia, infine siamo nella camera matrimoniale, dotata di un balcone affacciato sulle colline circostanti. Diamo un'occhiata e da qua possiamo ammirare il verde che ci circonda. Ricapitolando, oggi abbiamo visto un appartamento bilocale al secondo e ultimo piano con ascensore, con un'ampia zona giorno, bagno finestrato, camera matrimoniale, balcone esterno e un ampio garage nell'interrato. Il tutto al prezzo che vedete in sovraimpressione. Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito www.pebimmobiliare.it Grazie per la visione, alla prossima, ciao a tutti!